La campagna, stavolta voto anche io, credo che sia azzeccata per questo periodo in cui si ha molto scetticismo nei confronti delle istituzioni, invece partecipare e votare credo che sia la cosa più bella che può capitare a ogni cittadino partecipi di una comunità democratica, si voti per qualsiasi partito, per qualsiasi candidato, ma andare a votare credo che sia una delle cose più belle che può capitare a un cittadino che si sente tanto.